E quindi comunque le chiediamo a Robertone perché c'è la... No, a Robertone perché c'è la dodicesima concorrente, chiaraci proprio, Robertone! Eccoci qui, eccoci, eccoci, eccoci. E allora saltiamo direttamente alla dodicesima concorrente, come vedete è quasi più alta di me. Eh sì 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 sì. Lei si chiama Chiara. Allora Chiara, io volevo chiederti una cosa. Qual è la tua giornata a Timo? Ormai tu sei, tu sei grandicella, quindi dimmi un pochettino la tua giornata a Timo. Allora faccio colazione, poi vado a scuola, ritorno a scuola a fare il canto, due ore, e ritorno a casa, faccio i conviti e dopo vado a letto. Benissimo, benissimo. Ma ti è faticoso andare quelle due ore di canto? No, bravissima. Sì. È la tua passione, bravissima. La prima canzone in assoluto che ti ricordi di aver cantato? Ah, mi chiamo a Robertone. Meraviglioso, meraviglioso, signori. Eccola qui, arriva in bocca al lupo Chiara con la nuova 12. Applausi! Che bella, quante storie. Sono molto bravi, dico anche i genitori, sono molto bravi, perché quando riescono ad alimentare queste passioni dei figli, non è una cosa così scontata. Che sta lì dietro, accompagna, vada a prendere. E tu non lo sai? Non lo so io proprio. Chiara Ciprotto! Eccola a prendere. Buonasera. Certo, vedi il junior. E allora che quando sono scritti erano piccoli, poi è passato un anno e... Sì. Cosa ci canti, bello, questa sera? Skyfro e Chiadele. Ah, betta, sento. Tutta una bassincia. Sì, 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 hanno scelto tutti i brani. Va bene, allora noi andremo... Chiara Ciprotto! Applausi! Grazie. 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 Grazie a tutti. Non è vero, non è vero happen Ti senti qualcosa, poi sei sei che E' tutto il mondo Il riconoscio Il riconoscio Grazie per la visione 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 Grazie per la visione